Buongiorno a tutti, io ero solo un minuto per dare benvenuto a questa seconda giornata di lavoro all'interno del Digital Festival. Grazie, un applauso a loro. Grazie, la giornata prevede un po' sul mobile, questa sessione mattina sarà principalmente focalizzata sui superiore computer, i computing e le tecnologie indossabili. Fondamentalmente sono qui per raccontarvi un po' quello che già c'è e quello che ci sarà nei prossimi mesi. LG Electronics credo la conosciate tutti, è un'azienda che già da tanti anni si occupa di dispositivi mobile e in quest'ultimo periodo stiamo producendo sul mercato dei dispositivi indossabili. In futuro praticamente l'interno delle cose cambierà qualunque cosa, in futuro ogni azienda comunque sarà un'azienda di tecnologia. La tecnologia arriverà un po' in tutti i settori. Buonasera a tutti, di essere qui per questa tavola rotonda che da tutti i nostri osservatori sono Federico Capeci di 3.0 di Profodoxa. Parlare di mobile ormai è una possibilità piuttosto diffusa, si dice che sia l'anno del mobile per circa 3 anni, quindi aspettiamo che questo lo sia, ma lo sarà anche presto. Però si sta oramai abbastanza diffusendo la certezza che il mobile possa essere l'anello di congiunzione tra il consumatore e l'app di consumo, no? che quello che sono il suo recente tool è in questo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!